Ciao a tutti gli amici di AndroidBlog.it, stiamo provando la videocamera da 5 megapixel dell'HP Slate 10 HD che riesce a registrare video fino alla risoluzione di 1920x1080 pixel dunque in Full HD. Andiamo subito a provare la messa a fuoco che, come vedete, è praticamente assente se cambiamo il soggetto principale all'interno della nostra ripresa video. Forse non vi è la possibilità di mettere a fuoco manualmente, anzi se clicchiamo sullo schermo verrà scattata una fotografia. Proviamo un pan veloce, un controluce anche se non vi è molta luce oggi e vi è anche la possibilità di zoomare con uno zoom digitale fino a 2,9x anche se come vedete la qualità è veramente molto scarsa.